Peggy85 Vi supplico, ve lo sto chiedendo perché voi due siete i migliori Bertolt, Reiner Sì, insomma, non per farmi gli affari tuoi, ma che ne pensi di Tigra? Che opinione hai? Non sono ancora riuscita a ringraziare davvero mia madre e mio padre per tutto quello che hanno fatto per me È così difficile esprimere tutto quello che si vorrebbe quando è il momento di metterlo per iscritto E tutti i posti in cui siamo stati insieme e i luoghi che ancora vorremmo visitare Ce ne sono così tanti Non prendetemi sul serio, ovviamente il destino non c'entra Sono stato io a dirigere il corso degli eventi Non volevo spaventarti con il mio quark, scusami Ma penso che cadere prima dell'esame non porti bene Montagne, montagne imponenti Cose che mutano in un lungo tempo In effetti in tutti i libri di biologia che ho consultato finora non c'è traccia della mia specie Indovina, indovinello Quale genere d'uomo ha i pipistrelli nel cervello? Coraggio Lo puoi dire? Della mente umana Ti piacerebbe vedere cos'ha il nostro Bruce Wayne dentro la testa? Wow! Ora ne restano solo altre due Dopo che quando le avremo tutte e sette potremo chiedere al drago Sharon di rendermi immortale, giusto? Altre due soltanto In questo mondo in cui persino Dio è mortale molto presto io riceverò il dono della vita eterna Questo sarà il primo passo verso il compimento della mia troce vendetta Giunto finalmente il momento che da tempo aspettavo Per non sprofondare ogni essere vivente di questa terra nella mia cupa disperazione Bambola La buona riuscita dipende dalla tua abilità Tanto tempo fa conoscevo un uomo Le sue storie erano brevi ma significative Ce n'era una che parlava di una lepre e di una tartaruga Avevo una buona ragione per non mantenere quella promessa Nonché per i crimini di cui mi accusi Rilassati, era soltanto un pezzo di legno Ho un gatto Non lo so, non stavo guardando Da adesso in poi la mia spada sarà al tuo fianco E il tuo destino si accompagnerà al mio Il contratto è stipulato Vorrei che non mi fraintendessi La nostra razza non è animata da cattive intenzioni verso il genere umano Facciamo questo per allungare la vita dell'universo Madoka, tu hai mai sentito parlare di entropia? Benvolio, hai visto la fanciulla di poco fa? Per caso sai a quale famiglia appartenga? Mi fa tanto piacere, Sir Lancelot Non credo che l'operazione sia stata un successo Allora tanto meglio così Ci facciamo chiamare così Una specie di squadra Gli eroi più forti della terra, roba simile La cerimonia inaugurale Complimenti per la promozione L'ultima volta che ho visto Carnaca avevo 18 anni E mi stavo imbarcando per Dunwall Era l'alba E avevo ballato ubriaco tutta la notte Ero sostenuto dal favore del vecchio duca E pensavo di essere Il più grande spadaccino delle isole D'accordo La signorina Midori ci ha detto di portare a scuola un po' della nostra cacca La mamma mi ha detto che devo portartela Chi avrebbe detto che i calcoli per il campo di difesa assoluto fossero così complessi? Dopotutto le luce è stato veramente grandioso Sous-titrage Société Radio-Canada